Mascherine dal primo di maggio non più obbligatorie in negozi e locali, bar e ristoranti, ma a Cremona sia gli avventori che i dipendenti degli esercizi commerciali la indossano ancora, quasi tutti. Allora, indossiamo ancora le mascherine per una politica aziendale per rispetto verso il servizio del cliente, cerchiamo di tutelarci, di tutelare loro. La maggior parte dei clienti cerca di utilizzarle ancora anche loro per il rispetto del personale e del luogo dove vanno. Io sì, anche al supermercato le userò. Sì, anche io la uso. Pur essendo caduto l'obbligo per legge, noi constatiamo che tantissimi clienti, circa almeno l'80-85% ancora la indossano e noi, per rispetto di chi la vuole indossare ancora, la manteniamo. Sì, la mascherina in questi giorni sicuramente ci ha portato un po' di sollievo per quanto riguarda i nostri clienti, anche se certe persone sono ancora un po' scettiche sull'utilizzo. Personalmente i miei clienti sono ancora un po' titubanti nel toglierla. Speriamo che possa essere tutto in positivo, una strada in discesa d'ora in poi. Allora, io la mascherina finalmente non la uso più, perché mi piace vedere in faccia le persone. È meglio, ci si capisce meglio. E i clienti qualcuno la indossa, qualcuno no. Addio mascherine, ma è bene ricordare alcune regole anticontagio, oggi che la sottovariante Omicron 2 ha una contagiosità pari, se non maggiore, a quella del morbillo e della varicella. Prudenza, avere sempre con sé la mascherina, protezione da indossare in contesti affollati anche all'aperto, nei locali al chiuso quando ci si alza e infine meglio la FFP2 della chirurgica. Grazie.